ciao a tutti ragazzi al vostro polo spal 07 frosinone spal 2 a 0 allora innanzitutto perdonatemi la location ma stasera sono un po' impegnato quindi ho dovuto fare un po' di necessità virtù se vogliamo e poi comunque questo è un video abbastanza inutile perché fondamentalmente io la spal non è che l'ho vista tanto quindi cercherò un po' di riassumere quello che non è successo quello che non è andato bene in casa spal in questa seconda partita consecutiva persa per 2 retti a 0 seconda partita consecutiva in cui la spal chiude all'attacco con 0 tiri in porta allora innanzitutto evitiamo gli alibi delle defezioni evitiamo tutte quelle pantomime che si dicono eh ma mancava Tizio ma mancava Caio ma mancava Sempronio eh sì ok mancava Meccariello che comunque le scorse due partite non è che abbia brillato eh esattamente eh mancava tanta gente ma eh che la spala avrebbe perso questa partita io l'ho intuito subito eh leggendo le formazioni iniziali si capiva subito che Venturato avrebbe fatto un massiccio turnover massiccio perché alla fine avevi tre titolari in campo uno era Alfonso l'altro era eh eh l'amantia eh e poi c'era Zanellato e l'esposito toh quattro facciamo quattro titolari mettiamoci anche Zanellato dentro tanto perché voglio essere eh un po' più buono ehm eh il resto erano tutti eh tutti eh tutte seconde linee eh difesa a quattro completamente rivoluzionata eh esordio di eh Fiordaliso che sì 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 e no ehm dalle mura eh e arena i due centrali di difesa eh e eh dall'altra parte non ha giocato neanche Tripaldelli ha giocato Celia quindi giù Dickman giù eh giù i due terzini quindi difesa completamente eh rivoluzionata eh insomma al solito centrocampo a tre eh eh con 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 Esposito e eh Zanellato la davanti i rabbi Finotto e l'amantia non ho ancora capito perché Finotto continua a giocare a calcio non lo so comunque in ogni caso ehm un primo tempo ehm completamente inutile cioè proprio potevano fare potevano partire dal quarantaseiesimo eh che sarebbe sicuramente successo di più il primo tempo proprio non faccio nessun commento non non è esistito il primo tempo secondo tempo che parte eh terza volta consecutiva perché ci mette anche Spalziano perché abbiamo preso comunque uno stesso tipo di azione eh sempre eh nello stesso modo non abbiamo preso gol ma comunque ehm evidentemente qua c'è qualcosa che non va sul schema da calcio all'inizio perché la Spal ha la palla la perde nel giro di due passaggi gli altri vanno in porta e fanno gol quindi al quarantaseiesimo tra l'altro eh gran gol di caso che ha saltato tutta la Spalma ehm nessuno che eh come nel come nel caso del primo gol del Genoa gli sia andato sotto gli sia minimamente abbia minimamente provato a contrastarlo di fatto si è fatto un'azione parla al piede tutto il campo è dato in porta gran tiro a giro Alfonso incolpevole e insomma ehm non 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 mi sta bene prendere tutte le volte gol così a me non non mi sta bene per niente perché ehm le prime partite ci abbiamo messo una 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 cattiveria agonistica decisamente diversa questa qua l'avversario lo mangiavamo i contrasti li mangiavamo cioè adesso cosa cosa stiamo facendo ragazzi in campo cosa state facendo adesso non nessuno che vada a contrastare la la eh l'avversario cioè lo lasciamo andare in porta anche la scorsa partita con con Coda dentro l'area piccola si è fatto quindici metri parla al piede poi ha tirato cioè ma ma stiamo scherzando ragazzi ma cos'è sta roba cioè dove è finita la cattiveria abbiamo già esaurito la spinta delle prime partite cioè no per piacere no e poi l'inconsistenza là davanti cioè di un inconsistente pauroso zero ti importa anche stavolta poi vabbè la partita è finita sull'episodio di eh un'altra espulsione ancora arena che ehm poterà tranquillamente fare a meno lascia cioè cioè fa un fallo da ultimo uomo su 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 sull'attaccante il frugino l'ha lanciato a rete e poi sulla punizione conseguente sbagliamo la tiam sbaglia la barriera la barriera si apre tiam fa una pappera cioè allora o lo facciamo apposta prendere gol o se no insomma eh ragazzi cioè ma ripeto non è non è cioè gli errori individuali sono sempre che poi sono sempre quelli sono sempre quelli che non riusciamo mai a correggere sono anni che va avanti così oramai non ci credo neanche più ragazzi cioè è inutile che dico dai dobbiamo correggere quella cosa lì perché tanto tanto non la correggi non 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 è inutile teniamoci i nostri errori siamo consapevoli dei nostri errori e cerchiamo di fare necessità virtù però le partite vanno giocate ragazzi dobbiamo cominciare a giocarle queste cazze di partite non possiamo tutte le volte pretendere di andare in campo e dire vabbè dai questa non la giochiamo così poi giochiamo la prossima perché mi sta bene il turnover ma proviamoci almeno proviamoci abbiamo fatto una seconda partita consecutiva dove è il gioco delle prime partite che fino a fatto la cattiveria le trame delle prime partite adesso buttiamo su palloni così random e speriamo che grazie al cielo venga giù qualcosa quindi per piacere non facciamo queste cose qua perché adesso è presto però con un campionato così equilibrato sono questi punti alla fine che ti possono fare la differenza fra una salvezza tranquilla un playoff o qualcosa di meno o qualcosa di più non cerchiamo per piacere di ripetere il campionato dell'anno scorso dove abbiamo sofferto e patito fino all'ultima la spalla una squadra che secondo me ha delle potenzialità è molto più forte di quella dell'anno scorso non è questa squadra qua può fare di più e deve fare di più perché possiamo arrivare almeno a una salvezza tranquilla secondo me con questa squadra qua poi dopo se viene qualcosa in più meglio ma se viene qualcosa di meno è solo colpa nostra perché la squadra ripeto non è questa qua quindi per piacere adesso col cittadella mettiamoci sotto con la testa perché così ragazzi mi dispiace ma non va bene cerchiamo di far tornare della gente ma mettiamoci un po più di impegno che non voglio ripetere il campionato dell'anno scorso e anche per questo se andate alla fine del video scrivete nei commenti cosa ne pensate e noi ci vediamo come al solito al prossimo video e sempre forza spalla